Salgono a 15 i calciatori sotto contratto con il Foggia. Ieri sera il club Rosso Nero ha ufficializzato l'ingaggio del centrocampista Giovanni Di Noia, barese di nascita, 28 anni e 32 presenze e 2 gol nella passata stagione tra Fidelissandria e Gubbio. Gli Umbri sono stati la sua ultima squadra. Il giocatore era comunque di proprietà del Perugia, con il quale ha rescisso qualche giorno fa, prima di dire sì al corteggiamento del club di Nicola Canonico. Centrocampista duttile, capace di giocare indifferentemente da interno e da esterno della mediana, con oltre un centinaio di presenze in Serie B, con le maglie di Bari, Ternana, Cesena, Carpi e Chievo. Di Noia si è legato al Foggia con un contratto biennale. Ma il mercato del Foggia non si ferma agli ingaggi di Di Noia, Nicolao e Nobile, perché nel Mirino ci sono almeno una decina di profili, molti dei quali vicinissimi a vestirsi di rosso-nero. È il caso del difensore Somma, in arrivo dal Palermo, e del centrocampista Auger, svincolato da qualche settimana. Anche egli tra i rosanero nell'ultima stagione. Si segue anche l'esterno basso del Messina, Nicolo Fazzi, e resta aperto il dialogo con la Ternana. Dall'Umbria potrebbero arrivare l'attaccante Peralta e il centrocampista Salzano. Capitolo diverso per l'ex Alexis Ferrante, che sarà valutato in ritiro dai Rossoverdi. A buon punto la trattativa che dovrebbe portare a Foggia un vecchio pallino di Boscaglia, il trequartista Andrea Schenetti, a Lentella, nell'ultima stagione. Un altro pupillo del neoallenatore del Foggia è il centrocampista Jacopo Dall'Oglio, in uscita dal Palermo. Tutti elementi ai quali aggiungere qualche altro di assoluto spessore, soprattutto in avanti, che potrebbero legarsi al Foggia prima del 22 di luglio, giorno in cui i rossoneri cominceranno la preparazione precampionato in Friuli. E proprio in Friuli, nel quartier generale di Malborghetto, dovrebbe aggregarsi Oliver Kragl. Il tedesco sarà valutato da Boscaglia prima dell'eventuale tesseramento. Intanto il club avrebbe individuato la nuova sede societaria, dovrebbero essere gli uffici di un appartamento di Via Gramsci ad ospitare la società rosso-nera sin dai prossimi giorni. Il tutto dopo la scelta del Foggia di non aderire al bando per la concessione dello zaccheria, ritenuto troppo oneroso. Tornando a parlare di calciomercato è ufficiale l'ingaggio del centrocampista Moses Oger di nazionalità ganese. L'anno scorso era al Palermo dove nelle ultime due stagioni ha totalizzato 52 presenze con la maglia dei Rosa Nero. Un giocatore esperto che vanta oltre 100 gare giocate in Serie B con le maglie di Catania, Salernitana soprattutto e Trapani. Un motorino alla corte di Boscaglia, ma il mercato del Foggia non si ferma e nelle prossime ore sono attesi nuovi colpi.